Il comune di Teggiano ha offerto all'ordine dei commercialisti di Sala Consilina e incomodato d'uso un antico edificio da poco ristrutturato situato nel cuore della città museo e risalente al 400. Il comune salese invece per consentire all'ordine di conservare la sede a Sala Consilina ha messo a disposizione alcuni locali dell'ex tribunale che l'ordine dovrebbe però ristrutturare a proprie spese. La prima proposta è quella più allettante perché consente ai commercialisti di poter contare su un edificio che darebbe lustro all'immagine della professione che è poi uno dei motivi che ha spinto l'ordine a voler cambiare sede. La seconda invece garantisce sì la permanenza Sala Consilina ma non uffici dignitosi. Sulla questione c'è una Chiarella in corso che divide gli stessi commercialisti. L'idea di andare a Teggiano infatti non soddisfa molti perché allungherebbe le distanze soprattutto agli iscritti della vicina Lucania oltre che a quelli che svolgono la propria attività più a sud di Salerno. Secondo indiscrezioni però il direttivo ha già avviato le trattative con l'amministrazione comunale tegianese per la redazione di un protocollo d'intesa senza però tralasciare la proposta di Sala Consilina per la quale dovrà quantizzare le eventuali spese da sostenere per rendere fruibili gli ambienti presso il vecchio palazzo di giustizia messi a disposizione. Una questione finita anche in pasto alla politica locale e che di fatto ha diviso i due comuni. Una bella gatta da pelare per il presidente dell'ordine Nunzio Ritorto e per il suo direttivo. Per il momento l'ordine dei commercialisti di Sala Consilina che con la fusione con quello del Lago Negrese è arrivato a contare 390 iscritti ha sede a Sala in una struttura privata per la quale paga un fitto. Il primo gennaio dovrebbe trasferirsi a Teggiano a meno che nel frattempo le trattative per la nuova sede non facciano ritorno a Sala Consilina il cui sindaco Francesco Cavallone in più occasioni ha manifestato la volontà di contrattare affinché l'ordine resti nella sua città d'origine.